Europa League, Di Maria premiato per gol più bello, chi ha battuto? Un gioiello di rara bellezza, che ha lasciato tutti senza respiro. A partire da Massimiliano Allegri, che non è riuscito a limitare una gestualità comprensibilmente plateale per sottolineare il gradimento della giocata decisiva, il gol con cui Angel Di Maria ha spianato la strada alla Juventus per la vittoria a Nantes. Firmata con una sua tripletta e valsa la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. È stato eletto dall'Uefa come il gol più bello della settimana nella manifestazione continentale. Juve, Di Maria batte Di Bala, Pelasius e Goncalvesi il sinistro a giro di prima intenzione di Di Maria, che ha lasciato di sasso l'Afont, è stato preferito ad altri tre gol di pregevole fattura. Quelli di Di Bala contro il Salisburgo, di Pelasius dell'Evercusen contro il Monaco e di Goncalves dello Sporting Lisbona contro il Mid-Inland, virgola.